Il centro innovativo perché è stato innovato completamente il parco tecnologico e quindi abbiamo macchine di ultima generazione. Quindi possiamo continuare quello che abbiamo fatto in questi ultimi anni, introducendo nuove tecnologie, nuove tecniche di terapia all'avanguardia. E' proprio questa la missione del Molise Art, dove Art sta sì per Advanced Radiation Therapy, un polo ultramoderno, cuore del Gemelli Molise di Campobasso, che nasce per offrire trattamenti all'avanguardia in radioterapia oncologica, ma sta anche per bellezza, la bellezza appunto dell'arte stessa. Il nuovo centro entra a far parte del Network Art, progetto della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, unico nel panorama nazionale ed europeo. Noi abbiamo voluto investire sia sulla tecnologia ma anche sull'accoglienza. Credo che sia importante in sanità avere sempre questo binomio e nell'ambito dell'accoglienza abbiamo anche rappresentato un viaggio. Un viaggio in onore del Molise come quello della transumanza, dove le persone intraprendono un viaggio faticoso, ma allo stesso tempo è un viaggio che trova l'accoglienza di coloro che l'incontrano. Il Molise Art inaugurato alla presenza e con la benedizione dell'arcivescovo Giancarlo Maria Bregantini presenta un alto livello di innovazione e un numero di strumentazioni tecnologiche attive che consentono uno standard di servizio altissimo, partendo dalla sensibile riduzione dei tempi di attesa. Il nuovo centro dispone inoltre di moderne apparecchiature dosimetriche per l'effettuazione di controlli di qualità giornalieri. Se a tanta avanguardia si aggiunge la bellezza di fotografie che ritraggono il cuore della regione Molise, il risultato è davvero eccellente. Le migliori cure e l'arte, oggi considerata un'arma in più per la guarigione dei pazienti oncologici. Negli ultimi anni si è riscoperta la bellezza anche come cura. Quindi la radioterapia è una branca della medicina che è iper tecnologica. Ovviamente quando c'è molta tecnologia c'è il rischio che il paziente senta questa tecnologia molto distante e quindi magari si sente proprio abbandonato in una sala sia tecnologicamente bellissima ma poi da un punto di vista di calore umano ne dà veramente poco. Avere abbellito le sale penso che permette ai pazienti di sentirsi in ambienti molto più confortevoli, di potersi distrarre magari pensando a quell'ambiente che hanno vissuto quando erano più giovani o che hanno visitato magari recentemente e nel frattempo avere una cura dello spirito e quindi avere un vantaggio anche in quelle che poi saranno gli effetti del trattamento.